Musica Mi trovate a questa nuova puntata di Talk Sicilia Caro Bollette è sempre il tema conduttore di queste ultime puntate perché quello dell'energia è davvero un tema importantissimo per la vita del nostro paese per la vita di migliaia di imprese piccole, medie ma anche grandi abbiamo fatto diverse puntate, già abbiamo fatto sentire i consumatori con Fedel Consumatori, poi abbiamo parlato anche con Commercio oggi è la volta di Confartigianato che riuniscono tantissime imprese piccole e medie quello che è il cuore pulsante di questa nostra terra e abbiamo con noi in studio Girolamo Guddo che è un socio di Confartigianato e collegato Daniele Laporta, presidente di Confartigianato Sicilia Bentrovati Salve Buon poveriggio a tutti Partiamo subito con le questioni calde tanto per fare capire di che cosa stiamo parlando che non sono assolutamente temi astratti ma concretissimi e allora abbiamo qui appunto Girolamo Guddo che cosa è successo con l'ultima bolletta? Allora con l'ultima bolletta pervenuta abbiamo registrato un incremento rispetto all'anno precedente a parità di consumi di un aumento di circa 50.000 euro 50.000, siamo passati da mi diceva 20.000 euro per un mese a ben 78.000 euro 78.000 euro Ora mi spiega come fa a fare quadrare i conti con questa bolletta? A fare quadrare i conti siamo andati in perdita madornale perché con l'aumento del costo dell'energia elettrica incide sul fatturato circa l'11% rispetto al 2% dei mesi precedenti momentaneamente la mia azienda è in perdita madornale abbiamo fatto un previsionale con l'ultimo forecast che abbiamo concluso questa settimana che genereremo una perdita di circa 250.000 euro di qua a fine anno anche perché la bolletta è arrivata adesso ma tra poco il 10% arriverà all'altra e sarà più o meno simile quindi bisogna fare di tutto per cercare di bloccare questa emorragia perché significa praticamente mettere a serio pericolo a serio rischio proprio le imprese e allora Presidente come vede un caso concreto un caso molto appunto per non parlare di cose diciamo come dire così campate in aria ma fatti veramente concreti con persone perché dietro GUD ci sono tante famiglie che lavorano e tante famiglie che vivono allora qual è la situazione Presidente? La situazione è che come ha detto il collega GUD abbiamo un aumento di 5 volte rispetto all'anno passato ed è insostenibile sia per le luci che per il gas addirittura per il metano è superiore e quello che bisogna fare è che bisogna veramente stare attenti a questo momento storico la politica deve fermarsi fermare tutto quello che sta facendo cioè la campagna elettorale deve correre ai rivari bloccare questa situazione che non è possibile non è una situazione approntabile si rischia veramente la recessione è una situazione veramente molto catastrofica esatto non ci sono altre parole ma secondo lei c'è questa sensibilità perché dico adesso ultimamente l'altro giorno è venuto Calenda qui in Sicilia Palermo ha detto delle cose adesso Salvini anche oggi ha detto delle cose però dico fino a quando non c'è questa benedetta riunione del Consiglio dei Ministri mi sembra che sia è soltanto un gran parlare no? Sì, devono attuare immediatamente dei decreti legge e devono continuare tutto quello che stava facendo il governo uscente quindi PNRR tutti quegli aiuti che possono dare alle imprese quindi andiamo dalle comunità energetiche agli impianti fotovoltaici comunque dare un servizio alle imprese e noi cerchiamo anche di farlo con i centri il nostro consorzio per l'energia almeno per dare una chiarezza a quello che sta succedendo perché è inaccettabile e non si può continuare assolutamente in questo modo adesso la bolletta la prossima bolletta sarà più cara purtroppo sarà più cara dalle stime che abbiamo quindi stavamo toccando veramente quasi cinque punti veramente che si è quintuplicata ma ci siamo veramente quasi per non superarlo addirittura ma secondo lei questa è chiara la situazione al momento a livello politico hanno davvero il polso della situazione perché secondo me sono un po' distratti dalla campagna elettorale e non si rendono conto quello che succederà di qui al prossimo mese lo sa qual è una delle cose peggiori che questa situazione si porta avanti da 12-13 mesi quindi è stato un escalation un escalation negativa perché ripeto arrivando se continuiamo così l'inverno non possiamo affrontarlo in queste condizioni panetterie ceramisti è veramente inaccettabile e dobbiamo immediatamente recorrere i ripari cioè devono fermare questa assurdità perché dopo che siamo usciti da un lockdown dovuto al virus andremo a finire un altro lockdown se le nostre imprese si fermeranno non possono lavorare in perdita assolutamente possiamo dare qualche dato di quale movimento stiamo parlando in confrattigianato o degli artigiani in Sicilia se appunto volevi a questi dati e guardi noi abbiamo dei dati reali che era il costo per esempio dell'energia elettrica al megawattora di 67,42 appunto al megawattora quest'anno è quintuplicata io ho qui i numeri davanti e parliamo che ora la moltiplicazione è incredibile cioè si arriva un 469,01% quindi è quintuplicata semplice purtroppo il calcolo è molto semplice non possiamo dare un parametro diverso perché è questo e il metano diciamo che addirittura il gap è maggiore perché in Italia comunque il prezzo del metano è aumentato più di 5 punti più di 5 volte e l'energia elettrica è aumentata pure perché comunque per produrre energia elettrica in Italia si usano centrali a metano quindi facendoci due calcoli riusciamo a capire quello che succede Qual è il numero di imprese che ci sono al momento in Sicilia come artigiani? Di che numeri stiamo parlando? Stiamo parlando di centinaia di imprese del periodo invernale l'autunno sarà per noi un salasso già abbiamo delle imprese del Veneto o di altre zone che hanno rallentato volutamente le produzioni perché non possono andare avanti devono pagare gli stipendi si devono trovare degli incentivi anche per per diminuire queste bollette Allora diminuire queste bollette lei come farà di qua ai prossimi mesi se ne andrà? Allora guardi io faccio parte di una cooperativa si chiama PAC 2000A quindi che opera su tutto il territorio italiano momentaneamente la mia cooperativa non ha alzato i prezzi per cercare di avere una sostenibilità aziendale per il semplice fatto che già abbiamo riversato ai consumatori tutta l'inflazione che abbiamo avuto per questa guerra quindi già abbiamo dei rincari fisiologici che ci sono stati nei mesi precedenti e momentaneamente stiamo perdendo soldi giornalmente quindi l'effetto sarà quello di licenziare o di chiudere licenziare ho 43 persone che collaborano con me io ho stimato una tempistica se qualcosa non cambia e se il governo non interviene subito ma abbiamo bisogno noi di con l'immediatezza un intervento dello Stato io il 15 ottobre chiudo i battenti 43 famiglie in mezzo alla strada mi dispiace i miei collaboratori li ho resi partecipi ed è il momento che stiamo passando ma io al momento sto andando sotto sono in perdita in continua perdita ogni giorno alzando la sala cinesca siamo già 1000-2000 euro sotto che noi non guadagniamo non abbiamo questi utili nel mio settore quindi è un problema che purtroppo non sappiamo come affrontare perché qualsiasi altro problema dove noi potremmo intervenire trovando soluzioni ma qui non c'è soluzione non c'è soluzione quindi aspettiamo soltanto l'energia è fondamentale perché si devono si devono accendere purtroppo sì è fondamentale nel mio settore ma se non interviene subito siamo al collasso totale è storie come quella di è storie come quella appunto di Wood lei penso che ne sentirà tantissime ci può dire appunto Presidente guardi ne stiamo sentendo a decine purtroppo a decine a decine ed è veramente e cosa si può fare abbiamo vissuto il lockdown intanto devono abbattere subito gli oneri generali dalle appunto che spuntano in bolletta e ripeto devono aiutare quelli che sono gli investimenti strutturali strutturali per cercare per far sì per esempio con gli impiatti fotovoltaici perché sono gli unici modi sono al contatto non sono gli unici ma sono tra i modi più importanti per abbattere quelle che sono i costi per autoprodurci l'energia e deve intervenire lo Stato noi abbiamo visto in zona in eurozona che abbiamo gli aumenti maggiori tra la Francia e la Germania nonostante noi siamo stati quelli che nell'ultimo anno quindi all'uscita dal lockdown sono stati quelli che veramente hanno prodotto di più con aziende di Ili con edilizia con la manifatturiera l'alimentare abbiamo fatto veramente numeri importanti non possiamo adesso fermarci perché a livello energetico veniamo bastonati come se fossimo veramente delle aziende che sono energivore quindi comunque abbiamo bisogno di di aiuti maggiori quindi non ci serve non basta soltanto il credito di imposta per l'energia elettrica per il gas al 15 al 25 dobbiamo arrivare almeno a un 50% di credito di imposta per cominciare ad avere degli aiuti concreti in questa situazione ConfCommercio ha presentato ha scritto ai prefetti perché dice per il momento la politica è distratta e quindi ci rivolgiamo a quelli che sono appunto i rappresentanti del governo e quindi scriviamo ai prefetti voi come categoria cosa state organizzando noi abbiamo avuto interlocuzione direttamente con la politica perché ripeto e mi dispiace di essere ripetitivo dobbiamo immediatamente attuare dei decreti legge urgentissimi bisogna fermare anche le campagne ma lei ha accolto questa sensibilità l'ha accolta questa sensibilità l'ha accolto il suo il suo appello guardi io sento qualcuno che comincia a parlarne però realmente ancora non abbiamo visto nulla che non l'avremmo detto oggi stesso anche perché per quanto riguarda gli artigiani ci sono oltre all'energia c'è il problema delle materie prime no? perché dico c'è anche questo perché è tutto aumentato in maniera esponenziale dico quindi voi vi trovate a fronteggere due emergenze no? non è così presidente? sì ci ritroviamo ad esempio per faccio esempio della panetteria se aumenta l'energia comunque il panettiere deve poi aumentare il costo del pan alla fine se aumenta il costo della farina il panettiere deve per forza aumentare il pane è inevitabile poi non possiamo puntare il dito contro gli artigiani e le piccole e medie imprese e i commercianti anche perché noi alziamo la sala cinesca e siccome cominciamo ad avere dei costi dobbiamo pagare il nostro personale quindi diventa tutto inevitabile è un escalation ci sono consumatori che si lamentano dei prezzi più alti in queste ultime settimane come rispondete tantissimi consumatori pensano che l'inflazione è scaturita è una speculazione che ha portato avanti il rivenditore finale quindi in questo caso noi e noi supermercati ma in fattispecie noi già acquistiamo la merce con i rincari di quanto ma all'incirca del 20% 15-20% in base alla tipologia di merce il margine di guadagni e quindi anche le attività promozionali i volantini interfacciandoci con i nostri programmi a parità di periodo stessa merceologia già l'acquistiamo più cara rispetto all'anno precedente sì ma cara ha anche il doppio devo dire perché da consumatore un vasetto di yogurt che compravo 70 centesimi adesso l'ho trovata anche 1,40 euro lo stesso tipo di yogurt nel giro di qualche mese momentaneamente ci sono alcune aziende che la fattispecie è l'acqua bene di prima necessità e alcune aziende che non hanno problemi ad approvvigionare i tappi di plastica la nitride carbonica acqua gasata non ce l'è quasi più perché alcune aziende non hanno problemi ad approvvigionare le materie prime per avere il prodotto finito quindi non producono momentaneamente quindi quello che ci descrive anche appunto il suo consorziato qua è una situazione veramente associata è una situazione veramente grave veramente grave il problema è quello che sembra è che questo sia un problema che riguardi soltanto poche persone non tantissime persone perché non noto mi corregga se sbaglio questa diciamo sensibilità nell'affrontare immediatamente una situazione così grave sì veramente dovevamo correre ripari subito già se pensiamo che sono passati 12-13 mesi è veramente un'eternità sì perché non è una cosa che io ho visto comunicati stampa che parlavano di febbraio di questo allarme che di appunto di questa allarme che si sarebbe verificato di qui ai prossimi mesi quindi c'era tutto il tempo appunto per poter cercare di mettere mano a questa a politiche diciamo per fronteggiare questa emergenza invece si è galleggiato no? mi sembra diciamo di capire facendo arrivare queste bollettone diciamo alle persone che poi alla fine offrono lavoro danno sviluppo lavorano tutti i giorni ma come si fa? io l'altro giorno intervistavo appunto una persona che si occupa di ristorazione e nel giro di qualche mese si è passata da 4.000 a 25.000 euro di bolletta ma come si fa? ma noi stiamo parlando adesso dell'ultima bolletta ma tutti gli esercenti pagano il rincaro in bolletta ad agosto dell'anno scorso perché già da dopo ad agosto dell'anno scorso già dal 2 siamo passati al 4% di incidenza quindi già abbiamo avuto un aumento fatto sta che noi pagavamo l'energia elettrica l'anno scorso a luglio a 0.19 adesso siamo arrivati poi a 0.54 ma abbiamo avuto un incremento mese per mese ogni mese fino a questo mese che è arrivato a diciamo rincarato abbiamo avuto un incremento ogni mese da 0.19 29 39 ogni mese questo perché Presidente il prezzo del gas viene stabilito no è stata l'attenuante secondo me la guerra no 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 perché il prezzo del gas viene stabilito ad Amsterdam in Olanda quindi gli hanno dato questo bellissimo regalo diciamo in maniera che però questi contratti si possono diciamo in qualche modo rescindere dico uno Stato nazionale può avere la forza di fare questa cosa visto che il prezzo è diventato così esorbitante o no? ma deve averla la forza il prezzo è veramente diventato esorbitante insostenibile è veramente aumentato gradualmente io mi occupo io sono un artigiano mi occupo di energie rinnovabili ci siamo anche accorti che impianti fotovoltaici installati sui tetti quindi alla disposizione di immobili di alcune aziende che producono o che producono plastica o producono altri tipi di di materie che le lavorano quindi abbiamo notato che l'impianto strutturato è organizzato per produrre un X di di kilowattora non stanno più bastando quindi anche gli investimenti che sono molti investimenti piccoli investimenti che sono stati fatti l'anno scorso ci stiamo rendendo conto che l'impresa si sta trovando a pagare comunque una bolletta più alta è come se non avesse quindi il ristoro di quell'impianto fatto ad hoc per la sua azienda quindi stiamo addirittura aumentando anche la potenza di installazione degli impianti e comunque prodursi l'energia è di fondamentale importanza dobbiamo tutti capire un attimino ottimizzare utilizzare quelle accortezze anche aziendali o anche nelle famiglie stesse perché poi le aziende sono famiglie quindi bisogna stare tutti attenti in questo momento tutti attenti in questo momento e quindi praticamente i prossimi passi Presidente se la politica diciamo non vi sente non vi non fa quegli atti che voi chiedete immediati quali potrebbero essere intanto andrà ad aumentare esponenzialmente ancora l'energia e non è possibile qua si rischia veramente di chiudere tutti si rischia veramente un lockdown energetico con questa quintuplicazione ma dico ma pensate a qualche forma di protesta eclatante qualcosa state parlando ci sono al momento sì si stiamo parlando tra anche associazioni di categoria tra noi dirigenti e si sta cercando di capire come muoversi in tal senso dico state mettendo insieme anche dico anche le varie categorie dico avete questo stiamo delegando stiamo delegando per forza dico mi pare che sia l'unica strada visto che c'è questo disinteresse o no dico o è una prospettiva diciamo o lei pensa che effettivamente qualcuno farà qualche cosa senza diciamo senza una forma di protesta guardi io di mio personalmente sono una persona fiduciosa siamo arrivati veramente a un punto di non ritorno quindi veramente non può andare peggio di così quindi lo capiscono i nostri governanti può andare peggio di così perché ha detto che la prossima bolletta sarà più cara dico l'ha detto quindi peggio di così può andare non lo dico però effettivamente cerco di dirmelo io stesso perché essendo anche un artigiano cerco di tirarmi su ma effettivamente è molto complicato già l'aumento l'ultimo aumento c'è stato io mi auguro che non vada peggio di così perché se si riuniscono e fanno veramente un decreto legge urgente bloccano questa escalation dico quindi lei è fiducioso diciamo sì io sono fiducioso fiducioso ma fino a un certo punto dobbiamo essere anche realisti al momento la situazione è la medesima noi come confartigianato siamo siamo presenti stiamo dialogando comunque anche con i nostri artigiani con le nostre imprese ci stiamo ascoltando e stiamo monitorando la situazione quindi appena fate qualche cosa in un'universazione ce la fate sapere così possiamo diciamo dare dare supporto almeno questo diciamo ci possiamo dare come appuntamento e allora lei ora appena finisce questa trasmissione torna nuovamente in azienda e cosa sta dicendo in questo periodo ai suoi dipendenti a chi lavora per lei i dipendenti diciamo che mi stanno collaborando e si stanno impegnando sempre più per cercare di ma noi lo chiedono che fine faremo non ce l'ha non ce l'ha questa preoccupazione purtroppo sì ma infatti il sorriso non lavoriamo più col sorriso ma per il semplice fatto perché abbiamo tra virgolette se continua quest'andamento abbiamo le ore contate purtroppo io abbiamo fatto insieme a mia moglie questa azienda con tanti sacrifici e la sto vedendo sgretolare giorno per giorno perché non c'è soluzione ma è una cosa che non dipende da lei fondamentalmente no ma infatti appunto per questo perché se era qualcosa che dipendeva da me cercavo di trovare una soluzione nell'imminente ma purtroppo non dipende da me e il nostro sogno il nostro lavoro si sta sgretolando ogni giorno allora presidente per questi giovani dobbiamo fare qualche cosa dico è giusto dobbiamo metterci in mezzo a fare qualcosa perché non è possibile stare lì a guardare noi saremo sempre al vostro fianco qualunque cosa ci sentiremo e vedremo di trovare almeno vi diamo la voce giusto per poter dire le cose come stanno allora anche questa puntata finisce qui io ringrazio davvero il presidente di Conf Artigianato Sicilia Daniele Laporte di essere stato con noi grazie spero di averlo ospite per un'altra puntata anche per altre puntate Girono Gutto che è un giovane artigiano che appunto cerca di lavorare cerca di impegnarsi per sviluppare questa nostra terra che è davvero martoriata e difficile quindi questi giovani invece di partire restano quindi cerchiamo di dargli una mano da parte mia da Ignazio Marchese l'augurio di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti